E' stata Marina di Campo ad ospitare ad inizio settembre la chiusura di un'altra estate, l'evento promosso da Regione Toscana e dal quotidiano Il Tirreno per raccontare l'altra faccia dei borghi, soprattutto quelli affacciati sul mare, ma non solo. Scoprire dunque nuovi percorsi, tradizioni culinarie, aneddoti e storie, quelli di una Toscana che ancora voglia dimostrare il suo lato più inedito ai viaggiatori. Un'altra estate siamo partiti dall'isola del Giglio, chiudiamo all'isola d'Elba e chiudiamo con piatti che raccontano a veri territori. La narrazione parte anche dai sapori. E' come è vero che tutti i salmi finiscono in gloria, qui è la gloria della semplicità. Queste sono grampie di polpo, di polpo alle bala, bollito in una, è un segreto di una semplicità magistrale e queste sono acciughe che stanotte erano ancora vive sotto la lampara dei pescatori di Ponza, che qui all'Elba hanno mai fatto comunità, sono parte integrante a dimostrazione che l'accoglienza è il sale della conoscenza. E qui ci sono acciughe con una pastella di semola di grano duro, semplicemente setacciata da queste mani. Vedete come è articolata, sembra un'opera di Brancusi. Questa è un'opera d'arte fatta di semplicità millenaria. E a Marina di Campo, così come i viticoltori che si aggrappano ai terrazzi sull'Ansonica e vinificano nelle anfore, fino alle meraviglie della palamita sott'olio pescata dagli stessi uomini di mare che arricchiscono il sapere e la cultura dell'isola, è un tripudio. Perché più cultura, più storia fa la differenza, anche nei piatti. Perché si mangia e si beve anche con la testa, fortunatamente. Quella appena conclusa è la quinta edizione della manifestazione 5 anni scanditi da 38 tappe che hanno raccontato un'estate, quella toscana fatta non solo di mare. Un bilancio assolutamente positivo, sia perché c'è grandissima attenzione, i lettori del Tireno lo testimoniano, ma anche perché la visita dell'Elba oggi e la dimostrazione come alcuni luoghi non sono belli soltanto nel periodo classico di frizione piena del mare di agosto, ma in questo momento, settembre, uno si immagina perché no, ottobre, novembre, qui come posti dove scoprire delle cose bellissime. Vedete alle mie spalle i panorami dell'Elba strepitosi e soprattutto insegniamo, si insegna, si impara molto con questi percorsi, per esempio ad assaggiare la differenza fra un tonno classico che uno mangia un po' dappertutto nelle località di mare che invece viene da molto lontano, spesso sono prodotti oceanici, da tonnidi e palamiti per esempio dei locali dell'Isola delba che consentono consumi anche turistici molto più sostenibili. Ho sentito una frase una settimana fa e mi è rimasta impressa, i borghi che funzionano in Toscana sono quelli dove il turista e il cittadino non si distinguono, stanno uno vicino all'altro e non sai qual è l'uno e qual è l'altro, perché evidentemente esiste un'integrazione come dire, culturale nella mentalità, nell'approccio alla vita di tutti i giorni e questo credo che sia il segreto di un buon turismo. Il format di un'altra estate è semplice, fortemente legato alle persone del luogo, dei borghi, delle piccole frazioni visitate in questi anni. Una visita alla scoperta della storia del centro, un tuffo nei sapori ben raccontato dal giornale, una narrazione spinta anche attraverso i social con l'apporto di Fondazione Sistema Toscana ed ecco che l'occhio si spinge oltre il conosciuto per offrire un'immagine diversa dei territori, più profonda e autentica. Noi stiamo cercando, fin dal nostro insediamento, di cercare innanzitutto di destagionalizzare e poi di creare un'alternativa al mare. Vogliamo che Marina di Campo, che è il capoluogo del nostro comune, diventi non soltanto una meta maldeare o un salotto la sera per i negozi, ma anche qualche cosa di più, quindi stiamo cercando di valorizzare la parte storica. E così anche all'Elba la piazza di un'altra estate era gremita di persone, cittadini, viaggiatori, food lovers, tutti insieme per salutare la stagione più bella dell'anno e per vivere il borgo tra le sue strade antiche con una visita alla Lockman, la nota casa di produzione di orologi di altissima qualità. E poi ancora i sapori, quelli veraci del pesce esaltati dai profumi dell'Aleatico. Un mix vincente che ha portato gli organizzatori ad annunciare la nuova edizione della manifestazione del 2020. La filosofia di un'altra estate è proprio andare nei piccoli paesi, dove ancora esiste una comunità che vive il paese, dove ancora il turismo è un turismo più lento, più ragionato, è un turismo più pensato, dove ancora, perché no, il giornale può avere spazi per raccontare quella comunità che la gente non vede in televisione, che non legge sui social, quelle piccole comunità di tante persone vere che si trovano solo nei piccoli paesi. Per questo noi abbiamo deciso di fare un'altra estate e continueremo a farla anche l'anno prossimo in altri sette paesi che dobbiamo sempre scegliere. Grazie per la visione!